Buongiorno, buongiorno a Ivano Russo, direttore generale di Confetra, che ringraziamo di essere qui con noi oggi e a quale chiediamo dove sta andando il mondo della logistica, nel senso che ci sono tantissimi temi sul piatto, ovviamente la congiuntura internazionale è estremamente particolare, quello che abbiamo visto negli ultimi mesi rischia di essere completamente diverso da quello che ci aspetta da qui alla fine del 2022 e di conseguenza anche all'inizio del 2023. Qual è la visione di Confetra anche alla luce del nuovo almanacco della logistica? Il conflitto russo-ucraino sta avendo un impatto molto molto importante sui traffici, soprattutto ovviamente con la Russia e soprattutto rispetto agli impedimenti dei transiti del Mar Nero, tra l'altro sono difficoltà che vive sia il trasporto marittimo ma anche il trasporto stradale, è proprio recentemente stata mappata una scarcity di autisti ad esempio richiamati in patria a combattere ucraini, numero molto 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 importante. C'è il Covid che non ha ancora definitivamente abbassato la guardia, basti pensare a quello che sta succedendo in Cina e al porto di Shanghai, ieri leggevo di circa 500 navi ferme, ultimo aggiornamento, che produrranno di qui alle prossime settimane, di qui ai prossimi mesi tutta una serie di concatenazioni, di ritardi significativi sui traffici e su un meccanismo qual è la supply chain logistica, che è un meccanismo integrato, incentrato appunto sulla perfezione dei movimenti, sulla sincronizzazione dei movimenti. Peccato perché soprattutto il conflitto, ma anche questa coda velenosa diciamo del Covid che speravamo e pensavamo tutti di aver quasi definitivamente rimosso, sta rischiando di tarpare le ali ad una situazione economica che invece era stata di grande decollo nel corso del 2021. Quello che tra l'altro sta arrivando tra virgolette anche in Europa appunto è questa ondata lunga del Covid, quindi la congestione che sembrava tra virgolette in parte superata negli scorsi mesi rischia invece di riproporsi ancora e ancora e abbattere ulteriormente quella crescita di cui appunto parlava lei poco fa. Quali possono essere ad esempio delle misure da mettere in campo tra virgolette per imparare dagli errori del passato e farsi trovare più pronti anche per i prossimi mesi autunnali e invernali? Dal punto di vista strategico per l'economia io credo davvero tanto nelle strategie di reshoring e di near-shoring. La necessità di accorciare la filiera degli approvvigionamenti è una necessità strategica che in un mondo che purtroppo dopo 20 anni di sbornia globalista sta passando dalla guerra fredda, quella che abbiamo conosciuto nei 70 anni precedenti alla globalizzazione, a quella che viene definita la pace calda. C'è un mondo caratterizzato da continua conflittualità diffusa e a bassa intensità. Pensiamo a quello che è successo in Siria, pensiamo a quello che è successo anche nel corso di questi 20 anni, la primavera araba, l'instabilità di tutti i paesi rivieraschi del Mediterraneo, diversi focolai in Europa non di conflitto armato ma di conflitto politico. Si pensa a tutta la partita del cosiddetto blocco sovranista, i paesi di Visegra, l'approccio rispetto ai fenomeni migratori. Ora c'è questo conflitto alle porte dell'Europa, bolle in pentola la rivendicazione definitiva della Cina su Taiwan. Insomma, mi pare di poter dire che in un mondo che va trovando un suo equilibrio destabilizzato, scusate lo simoro, ma è quello che rende più l'idea di che cosa sia, a mio avviso, la pace calda, un meccanismo, un sistema economico che tende a destendere le proprie articolazioni da una parte all'altra del pianeta come se non ci fossero problemi, né di natura sanitaria, come abbiamo visto con il Covid, né di natura politico-militare, eccetera, è un sistema che secondo me andrebbe in direzione esattamente contraria rispetto a quello che il buonsenso induce. Io personalmente non credo che il Covid potrà tornare, al di là degli aspetti sanitari, ma non è questo il tema e non è questo il luogo, io non credo che il Covid potrà tornare a far sentire i propri effetti sull'economia come nel drammatico 2020, ovviamente, e tuttavia però c'è bisogno di attrezzarsi perché, come dire, un'onda lunga anche di trasformazioni strutturali, dei meccanismi produttivi, dell'import, dell'export, eccetera, potrebbe rischiare di cogliere il nostro paese non preparato. Il Mediterraneo non è mai uscito ovviamente dalla carta geografica, tanto meno da quella storica, ma in questo momento, proprio in questi ultimi anni, sembra essere tornato prepotentemente al centro proprio di quelle che sono le dinamiche, e quindi non soltanto della logistica e dei trasporti, ma rifacendomi appunto a quello che lei appena diceva, appunto sulla geopolitica, non soltanto sull'Ucraina, ma proprio sul trasporto globale e in generale, su, diciamo, una fase più calda anche delle relazioni internazionali, è davvero di nuovo al centro della storia. Ecco, da questo punto di vista, noi facciamo sempre riferimento all'Italia come alla grande piattaforma logistica, parliamo dei suoi porti, dei nostri porti, delle nostre autostrade, ferrovie e dei grandi investimenti, però facciamo sempre riferimento quasi a un mondo chiuso, come se non avessimo contatto con l'esterno, cosa che ovviamente non è. Anche da questo punto di vista, come, secondo lei, possiamo, tra virgolette, guardare un po' al prossimo futuro, sapendo che ci sono tante sfide molto complesse e di cui non possiamo avere assoluta contezza di che cosa succederà, soprattutto considerando appunto la sicurezza nel Mediterraneo e delle nostre coste? Ma io credo che noi dovremmo superare proprio l'approccio che lei ha appena riscritto e che potremmo considerare, come dire, dopo oltre vent'anni, diciamo dai primi anni 90, dall'adesione della Cina al WTO, dall'avvio del processo di globalizzazione, che poi in Italia è coinciso anche con la nascita della cosiddetta Seconda Repubblica, diciamo che questo ventennio, forse quasi 25ennio, è stato un 25ennio abbastanza fallimentare dal punto di vista trasportistico, logistico e infrastrutturale. Basti vedere cosa hanno fatto gli altri paesi competitor dell'Italia, dalla Francia alla Germania all'Olanda, e cosa non ha fatto l'Italia, proprio per i due errori di ancorarsi in maniera autoreferenziale ai due temi che lei prima citava, no? L'essere una piattaforma logistica del Mediterraneo, che è un falso, perché l'Italia è tutto il contrario di una piattaforma logistica, è separata dall'Europa, dalla cintura delle Alpi, è divisa in due dall'Appennino, a due terzi del territorio sismico o in condizioni, come dire, di stabilità complessa, a meno, mettiamola così, dal punto di vista proprio ambientale, geografico ambientale. E' un territorio che ha grandissime difficoltà anche di continuità territoriale, le due più grandi isole del Mediterraneo, la Sicilia e la Sardegna, sono italiane. Insomma, è veramente il contrario di una piattaforma logistica. Ha una posizione geoeconomica strategica ed interessante, ma essa da sola non rappresenta un vantaggio. Basti vedere al famoso, diciamo così, ragionamento che da anni si fa sui contenitori destinati alla pianura padana, e che preferiscono comunque scendere da Rotterdam, per non parlare di quelli destinati all'area mittel-europea, molto più vicino probabilmente ai porti italiani ascellari, alto-tirreno e alto-adriatico, e che comunque preferiscono servirsi da Rotterdam, Hamburgo e Brema. Secondo problema, quello di, secondo tema, secondo me, da superare, approccio da superare, quello, diciamo, di questa autoreferenzialità dei trasporti, della logistica e delle infrastrutture, come se il dibattito riguardasse, nascesse con questi e finisse con questi. Si dimentica, come dire, un elemento di base, che il trasporto è una derivata dell'economia reale, e c'è una domanda di trasporto, se la chiede l'economia reale, che è fondata su due grandi pilastri, i consumi e la produzione industriale. Per cui, a mio avviso, non ha alcun senso parlare di infrastruttura logistica e trasporti senza ripartire da politiche industriali, import-export, strategie produttive, pil del paese, produzione industriale, conformazione della produzione italiana, perché non è che le merci girano per diletto. Le merci girano, se c'è una domanda, in un paese che da mille anni fa sempre la stessa cosa, importa materie prime, le impreziosisce, le lavora e le esporta, diciamo così, trasformate in produzione made in Italy, è chiaro che la logistica ha una funzione determinante, direi quasi in tutta la fidiera, ex-ante, in itiner ed ex post, ma tutto questo esiste se c'è un'industria che lo richiede, o dei consumi che lo richiedono. Per questo io credo che bisogna ripartire dall'economia reale e finalmente concepire una politica infrastrutturale, logistica e trasportistica, anche quella che guardi al Mediterraneo, è quello che sta avvenendo col processo di industrializzazione in qualche modo etero diretto dalla Cina in Africa, secondo me può essere una grande opportunità per il nostro paese, per i nostri porti, eccetera, ma appunto partendo dall'analisi di ciò che sta avvenendo dal punto di vista industriale e produttivo in Africa, non partendo dal dibattito se a Livorno serve darsene Europa, se a Brindisi serve un terminal in più, se a Napoli serve la darsena di Levante, sono tutte discussioni francamente un po' astratte, fondate su analisi dei volumi naif, per modo di dire, dei flussi diciamo così abbastanza naif, dove ognuno per ragioni diverse, sia la componente diciamo pubblica e istituzionale, sia quella di mercato, tira un po' per la giacca a seconda dei propri interessi, ma rischia di appiattire l'interesse del paese. Tornando a quello che lei diceva appunto sulla produzione industriale, quindi sull'economia reale, c'è di sicuro un fattore dirompente, che adesso forse stiamo vedendo soltanto all'inizio, ovvero la rivoluzione davvero tecnologica, che non è soltanto la digitalizzazione del porto, del singolo container o del processo della supply chain, ma in generale è un momento che investe tutta la catena logistica, quindi dalla produzione al trasporto, alla consegna finale, l'ultimo miglio e via dicendo. Secondo lei da questo punto di vista come possiamo a livello nazionale diciamo intercettare un po' quelli che sono i trend e far sì che non diventino un fattore di ostilità nei confronti dei lavoratori, di tutta la catena logistica e soprattutto che diventino davvero un fattore di competitività e di aiuto e supporto all'economia reale? Ma guardi, il tema della digitalizzazione è un tema molto complesso perché come lei faceva ben notare ha tantissime sfumature. Anche qui io credo sarebbe utile proprio un cambio di paradigma se l'Italia vuole cominciare davvero ad essere competitiva. Anzitutto va assunta consapevolezza di essere uno dei paesi che ha il più elevato livello di digital divide in Europa. Ci sono tante aree del paese che non hanno neanche la connessione a internet per non parlare di quella veloce o del 5G. C'è un sistema puntiforme figlio di una difficoltà storica in questo paese dal punto di vista istituzionale a fare politiche nazionali omogenee. Si pensi anche al tema dei vari porti con tutti i PCS diversi, degli aeroporti uguali, con gli airport community system diversi, chi ce l'ha, chi non ce l'ha proprio. Parlo ovviamente del settore merci che conosco meglio. E quindi questa difficoltà, diciamo, un gap tecnologico di partenza è una situazione abbastanza, diciamo, da maionese impazzita, diversificata sul territorio, sicuramente non gioca al nostro favore. Il secondo aspetto che vorrei sottolineare, io credo che anche qui noi dovremmo superare la discussione sui singoli aspetti. Come impatta sul contenitore, come impatta sul PCS, come impatta sull'appuntamento intermodale. Se noi non capiamo prima dove sta andando, quali sono le grandi tendenze che stanno caratterizzando il rapporto tra tecnologia e produzione, tra tecnologia e trasporto, noi rischiamo di rincorrere, come dire, il dito invece che guardare la luna. Tra l'altro con la tecnologia, come lei sa, il dito cambia ogni giorno, si evolve in continuazione, per cui mentre fa il tempo a guardarlo, a capire come è fatto e a provare a rifarlo, non serve più. Allora, il ragionamento che a mio avviso andrebbe fatto è la grande tendenza generale alla disintermediazione. Basti pensare al non plus ultra, il caso Amazon, dove stando sul proprio divano si può far arrivare direttamente sul proprio divano un prodotto da qualunque parte del mondo, parlando con un solo soggetto, dal cittadino ad Amazon, attraverso il proprio device. Questa cosa ha rotto il fatto di alzarsi dal divano, vestirsi, scendere, andare al negozio, parlare col commerciante, vedere se c'è, se non c'è, eventualmente ordinarlo, quindi puoi riscendere per riprenderlo nel giorno in cui arrivi. Tutta questa roba qua, noi dobbiamo pensarla trasportata in scala, mutatis mutandis, sui grandi flussi produttivi e sui grandi flussi di trasporto. Se ci caliamo dentro questa cornice, il ragionamento che il paese dovrebbe fare è l'Internet of Think, l'intelligenza artificiale, la blockchain, le stampanti in 4D, 5D, il 5G. Come impatterà, anzi, come impatta già tutto ciò sull'intero sistema produttivo e trasportistico? Io credo che molte di queste analisi si siano cominciate a fare in vista della relazione del PNRR. Devo dire, per la prima volta si comincia a intravedere un qualche sguardo di sistema, seppur non particolarmente affinato, né nelle scelte strategiche, né nei singoli asset di intervento, però un qualche ragionamento di cornice si riesce a fare. Noi siamo un paese che, su questo punto di vista, ha un grande limite quello di non riuscire mai a fare un inquadramento serio da cui puoi far discendere le azioni. Quindi il rischio è che noi facciamo tante azioni, magari anche qualcuna meritoria, per l'amore del cielo, non è che si fanno tutte cose sbagliate, ma che però non spostano le statistiche, come dico spesso, perché non possono impattare, se tu non hai chiaro dove stai portando, su questo aspetto, la seconda potenza manifatturiera d'Europa e la settima potenza manifatturiera del mondo. Qui non è che stiamo parlando con tutto il rispetto dell'Aos, della Cambogia o dell'Angola o del Cile, dell'Argentina, insomma qui stiamo parlando di una potenza economico-industriale e produttiva in grave difficoltà, come lo è tra l'altro l'intera Unione Europea e se vogliamo anche in parte dell'intero Occidente, rispetto al fenomeno cinese, a quello che è avvenuto appunto dall'adesione della Cina al WTO in avanti, però è chiaro che questo è il ragionamento che secondo me andrebbe condotto e poi declinato sugli aspetti logistici, questa volta sì, ragionando su porti, su aeroporti, su appuntamento intermodale, su efficientamento dell'autotrasporto, però noi non possiamo continuare in questo paese a prendere le cose sempre dalla parte della coda e me dalla parte della testa, perché tra l'altro poi la testa cambia rapidamente e noi quando anche riuscissimo a beccare la coda ci ritroviamo con una cosa che non serve più. Benissimo, un'analisi estremamente varia, ma anche molto approfondita. Io per questo ringrazio davvero Ivano Russo, direttore generale di Confetra, vi invito a visionare la loro ultima pubblicazione su tutti quelli che sono appunto i dati della logistica per avere una visione d'insieme molto ampia. Lo ringrazio per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie a voi, a presto.